e le modalità che conosciamo. Come stanno governando? Governano con una situazione decisamente migliore di quella che noi avevamo con tutte le frustrazioni di non poter utilizzare risorse presenti in cassa e che ci mettevano in condizione di fare delle scelte davvero difficili perché dire dei no è sempre stato difficile anche perché non si sono mai fatti tagli sul sociale, sul web. Quello si è sempre mancato.